Oggi ho moderato un intervento sugli edifici a consumo zero, cosiddetti INZEB. È stata una giornata interessante perché abbiamo parlato e sviscerato problematiche attinenti a diverse situazioni, dai prodotti utilizzati a casi specifici di interventi che hanno portato a questi risultati di edifici a consumo zero. Sono pratiche molto virtuose che si stanno realizzando da qualche tempo. Non siamo ancora arrivati all'apice degli interventi e della normativa che prevede e obbliga a questo tipo di interventi, però si sta consolidando una grossa conoscenza di come realizzarli e questa è la cosa più importante in assoluto.